Precipita un elicottero sulla Pelusia, un biposto leggero monomotore da turismo ha avuto un guasto e in fase di atterraggio si è schiantato al suolo. Nessuna conseguenza per il pilota, uscito il leso. Legittima difesa, il presidente dell'ordine degli avvocati di Trento, De Bertolini, esprime dei seri dubbi sulla norma in esame al Parlamento. La modifica prevista innesca un'idea di giustizia privata. Condanne in appello per Filippo Gastaldini e altri due militanti di Casa Pound per l'aggressione ad un gruppo di ragazzi avvenuto nel 2014. Il leader del movimento di estrema destra pronto al ricorso. Continuano le difficoltose ricerche di Ingegnere Nardi e Tom Ballard, dispersi sul Naga Parbat, lanciata una raccolta fondi per sostenere le operazioni di recupero. In dieci ore si era già oltre i 60.000 euro. In Sardegna arriva la prima ciclabile che produce energia solare grazie ai pannelli fotovoltaici usati come pavimentazione. A realizzarla una società nell'acceleratore rovretano di Infinity Lab. Pratiche di successione? Contabilità per professionisti? Contabilità per enti non commerciali? Contratti di affitto? Rapporti di lavoro domestico? La vita è già complicata. Falla più facile con CAF Acli. CAF Acli ti dà più che una mano. www.acliservizi.it. CAF Acli ti dà più che una mano.